La cancelliera tedesca Angela Merkel è andata su tutte le furie con il suo ministro dell'agricoltura Christian Schmidt, esponente dell'ala bavarese ZESU, che lunedì, a sorpresa, ha votato a favore del prolungamento dell'uso del glifosato nell'UE. Ciò non corrispondeva alla posizione elaborata dal governo, ha detto Merkel, aggiungendo di aver parlato con il ministro e di avergli intimato che episodi del genere non si dovranno ripetere. Dopo il voto europeo, che ha dato il via libera a un altro quinquennio di uso di glifosato, la ministra dell'Ambiente, Barbara Hendricks, della SPD, ha criticato duramente il voto di Schmidt, accusandolo di aver rotto la fiducia. Il caso rischia di minare le già difficili relazioni tra la ZDU, i cristiano democratici di Merkel e la SPD, mentre sono in corso i negoziati per rimettere insieme i pezzi della grande coalizione. Perlino aveva inizialmente previsto di astenersi sul voto, ma il repentino e inatteso cambio di direzione ha consentito di rompere lo stallo di dell'Unione sul futuro del pesticida. 18 dei 28 stati membri hanno infatti votato a favore del prolungamento.